Non siamo assolutamente d'accordo, Salvini l'ha detto in tutti i modi, la Lega vuole andare avanti. Se questo è un aspetto tecnico che ha il vaglio degli uffici di Palazzo Chigi e del MEF, c'è qualche punto da raffinare, è meglio aspettare qualche giorno in più e renderla operativa affinché ci possa essere quello che abbiamo detto, che è nel contratto di governo e che è l'intenzione politica dietro l'approvazione della norma stessa, che è un pieno risarcimento da parte di IA. Ma voi condividete il pensiero che riportano oggi i giornali di Di Maggio che non è stata scritta? No, noi vogliamo che venga dato pieno corsa a quello che abbiamo votato. Non spetta al MEF fare i decreti attuativi, quindi che il MEF li faccia nel modo più idoneo affinché la norma possa essere applicata. Quindi è una questione di decreto applicativo, attuativo, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi non è una questione di Villa Rosa, di questo, di quello, è una questione meramente tecnica. Scriviamolo e facciamolo. Prima è meglio è. Se ci dovesse essere, se ci fosse qualche cosa da raffinare, è meglio qualche giorno in più per rendere la norma pienamente applicabile che non un mini pasticcio. Ecco, questa è la sostanza.